Lamberto guarda mi dispiace, abbiamo controllato tutte le carte e non si può fare più niente c'è la gente vuole di fare, basta guarda Lamberto, 40.000 euro al mese di pensione sono troppi ci sta nonno Mario che ne prende 518 ma ti rendi conto? la facchia è finita ragazzi questo fine settimana mobilitatevi stampate i volantini, diffondete le informazioni, fate flash mob banchetti perché lunedì e martedì si discute in aula la mozione del Movimento 5 Stelle per tagliare le pensioni d'oro a queste facce di bronzo